Ha conquistato la copertina dell'autorevole rivista scientifica Blatt, la ricerca eseguita dal team del Dipartimento di Medicina diretto da Oliviero Olivieri dell'Università di Verona in collaborazione con la Harvard Medical School sull'anemia falciforme. Nuovi strumenti terapeutici saranno possibili grazie alla terapia genica. È uno studio internazionale molto importante perché risponde a un bisogno reale, un bisogno di pazienti giovani. Si tratta di un'esperienza molto interessante che abbiamo condotto con la Harvard Medical School. Mostra come si possa modulare e intervenire sulla nicchia vascolare middollare per poter renderla accogliente rispetto alla terapia genica. Cosa vuol dire questo? Che ci sarà possibilità di una nuova cura, di una nuova terapia? Senz'altro. Quello che adesso noi abbiamo in studio insieme ai colleghi americani e anche più gruppi a livello europeo è proprio quello di identificare non solo il paziente candidabile a terapia genica ma anche come prepararlo alla terapia genica. Terapia genica significa modificare in laboratorio, ingegnerizzare le cellule staminali, reinfonderle nel paziente, cellule staminali del paziente stesso, reinfonderle in modo tale da superare il difetto monogenico. Chiaramente siamo molto agli albori di questa tecnica, abbiamo ancora pochi elementi a disposizione ma siamo già in clinica e quindi il nostro compito come ricercatori biomedici è quello proprio di trovare risposte e strumenti che permettano di poter avanzare rapidamente verso nuove risposte per i pazienti. Con Lucia De Franceschi fanno parte del team Scaligero Alessandro Matte, Carmine Carbone, Davide Melisi e Wilson Babu Anand, dottorando sostenuto da Fondazione Cariverona. Una squadra giovane che ha lavorato per 5 anni su uno studio che con le future ricerche da 5 a 10 anni potrà cambiare la vita di chi soffre di anemia falciforme, malattia che interessa al 7% della popolazione mondiale. Questo vuol dire che questi pazienti in futuro potranno guarire? Esattamente, come col trapianto di midollo, quindi cellule staminali da donatore, di cui l'Italia insieme alla Francia è una delle nazioni con maggiore esperienza e che quindi significa offrire a questi pazienti non solo prospettive di vita più lunghe, più simili alla popolazione normale, ma anche qualità di vita. Grazie. Grazie.